Della crisi tra Paolo Ruffini e Diana del Bufalo si era già parlato negli scorsi mesi. A confermare il ritorno di fiamma, però, erano stati poi i diretti interessati che, in diverse occasioni, avevano dichiarato di aver superato tutto e di essere tornati insieme più innamorati di prima. A confermare la loro rottura definitiva, tuttavia, oggi è stato proprio il settimanale di Alfonso Signorini. Nella rubrica chicche di gossip di chi, infatti, è possibile leggere la notizia relativa alla fine della loro storia. Nello stesso paragrafetto dedicato alla coppia, inoltre, un ulteriore dettaglio interessante è stato riportato a tal proposito. Diana del Bufalo, nello specifico, sarebbe volata alle Maldive con un altro uomo e questo, stando a quanto riportato da chi, avrebbe molto infastidito l'ormai suo ex Paolo Ruffini. Se seguite il profilo Instagram di Diana del Bufalo probabilmente già lo sapete, l'ex allieva di Amici è volata alle Maldive. Con lei, inoltre, ci sono anche due ex volti di uomini e donne, ovvero Fabio Colloricchio e Nicola Mazzocato. A dare molto fastidio a Paolo Ruffini, però, non è la loro presenza. Come si legge su chi, infatti, Diana del Bufalo è volata alle Maldive insieme all'amico e attore Cristiano Caccamo. Il settimanale, molto probabilmente volontariamente, ha messo tra virgolette la parola amico e poi, rincarando la dose, ha anche aggiunto che Diana è partita per metabolizzare la fine della storia d'amore con Paolo Ruffini, che non l'ha presa tanto bene. Ma su Instagram Diana del Bufalo rivela tutta un'altra versione. A chi, quattro giorni fa, le chiedeva dove fosse Paolo Ruffini, lei ha risposto che il comico non ama viaggiare, ma conferma di essere ancora fidanzata con lui. Sul profilo Instagram di Paolo, inoltre, la bella Diana lascia commenti di amore. E per finire sul profilo social di Diana ci sono ancora tutte le foto della coppia, mentre per Caccamolash, Stagusato e Friends. Vedremo cosa succederà al ritorno dalla vacanza con gli amici.